Continuano a scendere i dati del Covid in Sicilia, benché in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione della pandemia, per ordinanza del Ministero della Salute, da oggi lunedì 24 gennaio, scatta la zona arancione per Valle d'Aosta, Abruzzo, Friuli, Venezia e Giulia, Piemonte e appunto la nostra Sicilia. In cui il report dei dati scende di parecchio, dai 7.000 a 8.000 circa dei giorni precedenti, oggi i positivi risultano 5.394. Ancora però positivo il segno che interessa i ricoveri sia normali nei reparti Covid, sia che nelle terapie intensive. 24 i decessi. Le dosi di vaccino aumentano, 9.264.720 sono state inoculate, mentre per la provincia di Siracusa ancora alto è il numero dei contagi, con 579 contagi giornalieri. Ed il Governo ha aggiornato anche una tabella delle FAC, delle domande, sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale, raccomandando naturalmente l'uso della mascherina, che è uno dei mezzi più efficaci per proteggerci dal contagio da Covid. Oltre che fare il vaccino a richiamo, lavarsi le mani, ricambiare l'aria dentro casa o nei vari locali e rispettare il distanziamento. La supercamera di commercio di Catania, che aveva annesso in modo umiliante le camere di commercio di Siracusa e Ragusa, non esiste più. E in questa fase di transazione sarà scelto come commissario Massimo Conigliaro, apprezzato professionista siracusano, che dovrà gestire il suo incarico guardando all'interesse complessivo delle cinque province interessate. Un importante risultato, dice lo stesso Bruno Marziano, che restituisce ad ogni singola Camera di Commercio, fra le cinque accorpate in una propria autonomia operativa, deve essere ora la base per un'ulteriore riforma del sistema, che dovrà tendere a costituire in Sicilia la Camera di Commercio, Siracusa e Ragusa da un lato e delle altre tre province dall'alto. Un compito imperante spetta adesso alle associazioni di categorie di ogni singola provincia, dice Bruno Marziano, nel rivutilizzare l'attività dell'ente, nel farlo tornare ad essere strumento di servizio e sostegno per la piccola e media impresa siciliana. Sottolineato anche l'impegno dei parlamentari, che sono stati i protagonisti della decisione, dalla prestigia a Morraciti, a Minardo, a Ficara. Mentre Enzo Vinciullo, responsabile provinciale della Lega Sicilia, del segretario Minardo, sottolinea come il ministro della Lega si è riuscito, dove tanti precedenti ministri avevano fallito, ridare quindi autonomia e la libertà dei condizionamenti catanesi, alla Camera di Commercio di Siracusa. In pochi giorni ha compiuto un furto, un'estorsione e due rapine a noto. Questo è il primato di un 47enne, identificato dai carabinieri dopo l'ultimo colpo messo segno in danno di un negoziante a cui l'uomo si è rivolto con fare minaccioso, mostrando il calcio di una pistola che fuoriusciva dalla cinta dei pantaloni, chiedendo l'incasso della giornata. Il commerciante ha finto di non aver contanti in negozio e attirando ad alta voce l'attenzione dei passanti, ha di fatto messo in fuga il rapinatore e nel contempo si è rivolto con fiducia ai carabinieri, fornendo una dettagliata descrizione dell'uomo. I militari del nucleo radiomobile di noto sono risaliti all'identità del rapinatore e sono subito iniziate le ricerche nell'abitazione e nei luoghi frequentanti dello stesso che pochi minuti più tardi, sentitosi braccato, si è presentato spontaneamente al comando della stazione dei carabinieri, accompagnato dal legale di fiducia. Incrociando le recenti denunce ricevute con i filmati di videosorveglianza, si è ricondotti all'uomo almeno un'altra rapina, simile per modalità di esecuzione, oltre ad un furto in danno ad un anziano. Quest'ultimo caso, il 47enne, dopo aver sottratto il portafoglio contenente 350 euro, lo avrebbe contattato tentandoli di essorcegli un'ulteriore somma. Denunciato navolese per gestione non autorizzata di rifiuti. I carabinieri della stazione di Cassibile, nel corso infatti di un servizio di controllo sul territorio, hanno fermato un pregiudicato avolese di 65 anni alla guida della sua moto Ape, che stava trasportando oltre 200 kg di rifiuti di varia natura, in particolare pneumatici, materiale ferroso e plastico. Il soggetto, che non era in possesso della patente di guida in quanto ritirata, era altresì privo di qualsiasi autorizzazione al trasporto e la gestione di rifiuti e della copertura assicurativa del mezzo. Al conducente, militari hanno sequestrato rifiuti e il veicolo, denunciando navolese per reati in materia di ambiente e violazioni del codice della strada. Storia a lieto fine per il proprietario di Luna, un cane di piccola razza che si era perso in ortigie e che è stato ritrovato dagli agenti delle volanti in via Necropoli del Fusco. L'hanno visto disorientato, l'hanno portato in una clinica veterinaria e tramite il microchip hanno individuato il nome del proprietario. Era scattato il tantam sui social. Dopo la segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera di Siracusa, sabato 22 gennaio, riguardante un'unità intenta alla cala di reti di pesca all'interno delle acque Porto Grande di Siracusa e il personale di turno ha disposto l'invio di una motovedetta sul posto. Infatti è stato rintracciato un'unità che aveva da poco collocato le reti in mare. Sequestrate circa 200 metri di reti da pesca abusivamente utilizzate è contestata la sanzione amministrativa di 1.000 euro a carico dei responsabili. La Capitaneria ribadisce che nell'ambito dei porti e da prodine al circondario marittimo di Siracusa è vietato l'esercizio della pesca comunque effettuata. Una cappella dedicata allo sbarco di San Paolo a Siracusa a martedì 25 alle 10.30 a conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani si terrà un momento celebrativo che inaugurerà la cappella dell'Apostolo delle Genti presso la Basilica del Santuario Madonna delle Lacrime. La cappella fa in memoria dello sbarco di San Paolo a Siracusa come riferito da San Luca nel libro biblico degli Atti degli Apostoli al versetto 12 a Prodamma a Siracusa dove rimanemmo tre giorni. Nella cappella realizzato col contributo dell'Apro Tour sono presenti anche le foto delle chiese dedicate a San Paolo in Ortigia in Solarino e a Palazzolo testimonianza dei tre giorni che hanno segnato la permanenza dell'Apostoli delle Genti a Siracusa in Sicilia. Di particolare pregio è la tela dipinta e regalata al santuario dal maestro Giorgio Refice che rappresenta San Paolo mentre nell'anno 61 con la spada della parola di Dio e con la croce di Gesù Cristo in mano sbarca a Siracusa sullo sfondo e resti del Tempio di Apollo e alle sue spalle la facciata della chiesa che gli sarà dedicata in Ortigia. Grazie a tutti i nostri spettatori